Inaugurata questa mattina la nuova sede della scuola dell'infanzia Sant'Eligio nella zona di Piazza Mercato. La struttura, un'ex scuola comunale, giaceva chiusa e inutilizzata da diversi anni. Piazza Mercato è un luogo che ha bisogno di crescere nella legalità tra l'altro e quindi questo nuovo spazio è un luogo dove si trasmette la conoscenza e la competenza e soprattutto la legalità. Quindi perciò è importante avere un nuovo spazio scolastico a Piazza Mercato. Nei nuovi spazi ristrutturati dal Comune di Napoli saranno ospitate tre sezioni dell'Istituto Comprensivo Campo del Moricino. Oltre alle aule per la didattica, la scuola comprende un'area per il riposo, una mensa e uno spazio dedicato al gioco. L'unica cosa che io sento di poter dire in questi casi e in questo scenario è che se noi parliamo di educare attraverso la bellezza, forse dobbiamo cominciare proprio dalla valorizzazione dei luoghi, del patrimonio che questa città ha e che deve dare alle nuove generazioni. Quindi sapere che i bambini di questa città, dei vicoli dietro Piazza Mercato, che spesso non vedono la luce, giocheranno in questi spazi e in questi spazi cresceranno, è secondo me la cosa più ambiziosa che noi possiamo realizzare. I locali fanno parte del complesso monumentale di Sant'Eligio a ridosso dell'antica chiesa di epoca angioina.